All'Istituto Oncologico Veneto 52 ricercatori sono stati assunti a tempo indeterminato dopo anni di precariato. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di una ricercatrice. I servizi sono di Elena Chemello. Ricercatori sanitari e collaboratori di supporto alla ricerca, 52 in totali da molti anni e da molti diversi contratti a lavoro all'Istituto Oncologico di Padova, con una delibera dello scorso venerdì sono stati stabilizzati, assunti ovvero a tempo indeterminato. Il passaggio è storico perché non segna solo la fine del loro precariato ma anche l'inizio di una vita di ricerca nella continuità ma più serena per loro e per i loro progetti. Queste persone sono andate avanti con borse di studio, contratti co-co-co, altre tipologie che ovviamente danno un'insicurezza per chi ha una grande passione e vuole costruire la sua carriera nella ricerca all'interno del sistema sanitario. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come lo IOV tengono insieme ricerca, innovazione e assistenza e cura dei pazienti. Per questo la figura dei ricercatori nel servizio sanitario ha un ruolo centrale. È un sodalizio che si crea negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dove hanno queste due realtà di missione, sia quella della cura che quella dell'innovazione, insieme. Dove quindi c'è anche un patto fra ricercatori e pazienti. È un segnale per quello che sarà il futuro, questo non è il punto di fine, è il punto di inizio di un percorso. È il futuro loro e anche della ricerca. Certo, è il futuro loro, ma soprattutto della ricerca e deve essere una ricerca sempre più traslabile in quello che è poi l'assistenza. Nicole Silic Benussi, lei ha 47 anni, è uno dei ricercatori che vengono stabilizzati. In che ambito è il suo lavoro? Io ho cominciato nella struttura che adesso è dello Iov nel 2002 con la mia tesi di laurea. Ho continuato il mio percorso di studi con il dottorato in scienze oncologiche e dopodiché sono andata per un breve periodo, un anno circa, negli Stati Uniti a lavorare presso l'NIH. A quel punto sono rientrata in Italia e qui ho continuato sempre a lavorare nell'ambito oncoematologico. In questi anni con che tipo di contratti hai lavorato? In questi anni ho collezionato una serie infinita di contratti precari che passavano dalle borse di studio ai co-co-co-co, ho fatto assegni di ricerca con l'università per poi approdare ai cinque anni di piramide nel 2019. Cosa cambia da oggi nella sua vita ma anche nella sua attività di ricerca? Finalmente ho la serenità di poter pensare a dei progetti a lungo termine in maniera molto molto serena. Mai pensato di andare all'estero e di continuare lì la sua carriera? In realtà quando ero all'estero ho avuto delle ottime offerte, sì, ci avevo pensato seriamente ma poi l'Italia mi ha sempre attirato. È stata anche una decisione molto personale e trasferire tutta la famiglia all'estero era possibile ma non ottimale, diciamo così.